Ciao ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi, come vedete oggi siamo in un nuovo episodio di Minecraft, oggi ci regheremo su un altro video gioco di Minecraft, ieri abbiamo visto Forcecraft, bello ma schifoso, e abbiamo visto lo zombie che è intrappolato, oggi lo rivedremo se c'è ancora lì, e vedremo World of Cubets, ho sempre videocamera piccola in questi giorni infatti, allora questa qui ragazzi, questa qui che vedete, è la mia, che dice che puoi collegare soltanto la notte, ma qui la cosa bella è che mi dice che puoi collegare soltanto la notte, ma la notte qua non capita mai, è vero raga? qui non c'è proprio notte, io mi posso chiamare gamer in questa stanza, e questa è la mia vera casa, in cui io ci sono, questa è la mia casa, che bella, visto? ovviamente la chiudo, oggi ragazzi, rivedremo dove c'è stato l'orzo, lo zombie è quella cosa rossa che voi vedete, andiamo subito ragazzi ad andare, che io, me, tutto a meno, qui ragazzi è lo zombie, e non sto scherzando, perché qua io l'ho messo, guardate chi non ha visto i video di ieri, aspettate, qui ragazzi, aspettate lo zombie, pistolo zombie, c'è io ieri l'entrappolo da qui, ecco, questo qua lo so e me ne vado, lo lascio qui, vorrei vedere che ho coraggio di mettere l'enderman, enderman, siamo su minecraft, ecco, uovo di enderman, vabbè, non li ho distrutti, uno sta lì e l'altro sta lì, e l'altro io mi spavo, possiamo mettere la mucca, la mucca, la mucca, la mucca, la mucca, la mucca, dai cadete, 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 non so proprio cadere queste mucche, voglio che muoiono, sto scherzando, della gallina, 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 gli dicevo, vado in un'ermano, zombie, zombie non so dove metterlo, però lo metto molto lontano, perché ovviamente è pericoloso, ecco lo zombie, che spero che voglio, no, tu non mi estima, per fortuna è che c'è l'acqua, e gli zombie non la possono passare, in questo videogioco però ci sono gli enderman che la trapassano, dobbiamo sempre cercare di non farci peccari, raga, non sto dicendo che non possiamo farci peccari, qui raga, ecco, ora metto l'uovo di surprise, ma schifo, qua ragazzi incendiano, incendiano questi quelli che ho messo, e ovviamente ho una spada, questa è la mia casa, ovviamente con lilla li ho messi, gli animali di lì, perché voglio essere più fortunato, ovviamente, qui c'erano zombie, che non potranno mai uscire, perché io ormai l'ho intrappolato lì, qui nessuna persona, guardate, sarebbe zombie, ah no no no, scusate il letto, vabbè, ritorniamo, e giochiamo a WorldCraft, WorldCraft World of Cubets, no a language, che significa caricare, eh, per, create, no no no, no no no, quello di prima, quello di prima, single prior single prior create io ah il nome è youtube 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 creative survival io non ho molto coraggio facciamo creative non tuotube non tuotube youtube ok però ragazzi io ce ne avevo già un altro lo sapete ce ne avevo già un altro il mio che si chiamava sempre youtube io ce ne ho giocato single prior facciamo create ok pipipip facciamo stavolta survival ci vediamo dopo che sarà finita ragazzi eccoci qui survival si sta caricando io non volevo perché ho schiacciato survival sarebbe sopravvivenza 100% no 100% no per favore no per favore no per favore ci be' vabbè vabbè vorrei essere io fuori mi sono punto mi sono punto mi sono punto grazie a tutti grazie a tutti una spada o qualcosa mettiamo la telecamera piccola perché intanto mi serve piccola la telecamera ragazzi non ho niente craft come stick c'è soltanto niente insomma ragazzi niente non è così come ho visto raga io non posso santo è buio ritorniamocene però ragazzi visto che io ce l'ho in coraggio mannaggia tutti quanti all'ora si è morto si ok un cubo solo comunque ragazzi richiamo la videocamera perché questo è una cosa importantissima tra poco ci sarà la mia prima intro noi ragazzi lasciate davvero tantissimi like e iscrivetevi al canale vado un attimo a vedere quanti iscritti abbiamo andiamo a controllarli e vi vedete il player off console perché sono molto bene a fare video raga eccoci qui cerchiamo il mio canale mi chiamo davide noccio guardate ragazzi 22 iscritti su youtube grazie a roberto che sei iscritto mio amico sei iscritto su youtube ciao ragazzi questo video è concludo qui noi ci vediamo nel prossimo video iscrivetevi al canale ciao raga vi ricordo che nel prossimo video o domani o dopo domani farò la mia prima intro ciao raga oh lunedì ciao ciao